In corso in diversi punti del Veneto i presidi unitari di CGL, CISL e UIL contro i tagli ai patronati sindacali. Il rischio è che questa pesante mannaia obblighi i patronati a chiudere e a chiedere soldi per i servizi resi, inducendo molte persone a rinunciare a tutte le prestazioni di minore entità. Stavolta però c'è una buona notizia che arriva dal Padovano, più precisamente da Tribano, dove a sede la Bertos. L'azienda ha siglato un nuovo accordo integrativo per i lavoratori che potranno contare su ben 16 modelli di orario diversi. Stefano Edel. La Bertos di Tribano nel Padovano produce cucine per comunità ditte di catering, alberghi e ristoranti e conta su 110 dipendenti di cui il 20% donne. Firmato l'accordo integrativo triennale con le rappresentanze sindacali unitarie e la FIMCISL di Padovero Vigo, la novità è rappresentata dal fatto che per la prima volta viene messo nero su bianco il welfare aziendale. Elena Levis, responsabile delle risorse umane, lo spiega così. Abbiamo cercato di istituzionalizzare una serie di benefici già riconosciuti negli anni precedenti, come ad esempio il contributo a spese scolastiche per i figli dei nostri dipendenti, che spaziano dal nido all'università con contributi che vanno dai 200 ai 500 euro per ogni figlio inserito nel ciclo scolastico. Abbiamo poi formalizzato un contributo sulle idee innovative che arrivano da parte dei nostri collaboratori. Abbiamo inserito anche un premio fedeltà aziendale per il raggiungimento di 10 anni in azienda. C'è anche il sostegno alla genitorialità con 16 diversi modelli di orari di lavoro per le esigenze familiari. Giorgio Berto, fondatore dell'azienda e commendatore, ha sposato una precisa filosofia che è alla base di tutto. Noi cerchiamo di creare un ambiente confortevole, un ambiente tranquillo, perché noi pensiamo che siano gli interessi dell'azienda, quindi tutti quelli che lavorano. Noi pensiamo che le tensioni non possono essere che deteriori.